La strega e capitano di Leonardo Sciascia Ecco, voi potete vedere adesso nei prossimi slide anzitutto quanti video abbiamo già fatto su Sciascia una è una diretta, proprio quella più, tra virgolette, recente la scomparsa di Majorana e poi altri tre invece sono dei video no, anche una storia semplice era un'altra diretta invece i primi due, nel 2018, quindi ormai di 5 anni fa erano due video lezioni scolastiche registrate in classe quando ancora non ero un preside, non ero un dirigente scolastico ma ero un docente di lettere al liceo vedete che in queste slide sono un po' separate anche con un altro criterio dove vedete il viola c'è la diretta dove non c'è viola, dove non c'è la scritta su fondo lilla meglio non è una diretta ma c'è un'altra distinzione e quindi vedete che è l'ultima, la più recente è diversa rispetto alle tre precedenti le tre precedenti sono state dirette o dei video su romanzi quindi testi di narrativa frutto anche di invenzione invece la scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia è un po' come quello che leggeremo oggi è un testo di... quasi di carattere saggistico storico, ecco, sicuramente appena appena un po' più romanzo quello di stasera rispetto alla scomparsa di Majorana però, ecco, lui... chi era lui? adesso lo spiegheremo fu anche un giornalista comunque, sul mio canale YouTube Luigi Gaudio ci sono una diretta e un video che sono stati registrati comunque diciamo in contemporanea e solo per questioni tecniche si è deciso di pubblicarli entrambi sulla stregoneria tra Medioevo e Età Moderna e sulla caccia alle streghe questo infatti è un argomento fondamentale nel libro che stiamo andando a leggere oggi ma stavamo dicendo che volevamo dire qualcosa su Sciascia abbiamo utilizzato il termine giornalista perché scrisse molti, molti articoli per esempio sul Corriere della Sera di grande impatto lui era un polemista certe volte non ci imbroccava anche con i suoi articoli non aveva capito niente insomma di Giovanni Falcone molto molto critico su Giovanni Falcone e a mio parere insomma anche sull'affare Moro secondo me aveva le idee piuttosto annebbiate però lui era stato anzitutto era nato lì in Sicilia a Racalmuto l'8 gennaio del 1921 era stato un maestro era stato un docente insomma quando era ancora docente e non viveva solamente di scrittura iniziò a pubblicare i suoi primi libri come le parrocchie di Regalpetra ebbene Regalpetra diciamo che è una cittadina siciliana dove lui faceva l'insegnante e questo fu il suo primo libro nel 1956 poi gli zii di Sicilia e poi ci sono stati quei tre grandi romanzi sulla mafia che sono stati i primi tre che abbiamo letto insieme cioè il giorno della civetta nel 61 e a ciascuno il suo nel 66 mentre una storia semplice addirittura l'ha pubblicato proprio è stato pubblicato postumo quindi nell'anno della sua morte lasciamo perdere altri romanzi che comunque spesso hanno anche ispirato delle versioni cinematografiche alcuni di quelli che abbiamo citato prima per esempio assolutamente sì un libro che aveva più o meno quasi lo stesso titolo di un libro famoso di Voltaire ci fa capire anche la sua impronta neoilluminista scrisse anche dei testi teatrali e poi dicevamo anche molti molti testi di saggistica perché era un opinionista ecco ma si fece anche eleggere deputato consigliere comunale prima di tutto nelle liste del partito comunista ma poi anche magari più come indipendente ecco la storia di cui parliamo stasera è una storia vera cioè praticamente un editore gli aveva lasciato dei documenti del materiale su questa storia che era avvenuta nell'inizio del 1600 una storia di chiamiamola così caccia alle streghe o un quanto meglio più che una caccia diciamo un processo ad una strega che andò a finire male con Caterina Medici che fu arsa sul rogo questa storia rimase diciamo nei cassetti di Leonardo Sciascia per un certo periodo di tempo e poi quando la tirò fuori quasi per caso lesse appassionatamente tutta questa documentazione e nel giro di pochissimo tempo tre settimane scrisse questo breve testo questo breve libro di 76 pagine questa la mia edizione contiene appunto 76 pagine di storia ecco piuttosto densa quindi senza altro la storia di Caterina emblema della negazione dei valori della ragione e del diritto abbiamo detto che Leonardo Sciascia è un neo-illuminista e quindi ispirato anche ancora una volta da altri grandi illuministi del 700 in questo caso da Pietro Verri e anche da Alessandro Manzoni che nel 700 era nato ma poi fu essenzialmente anche uno scrittore romantico ma che non smise mai la sua eredità illuminista soprattutto poi quando si trattava di processi lo sappiamo benissimo noi che abbiamo letto i Promessi Sposi e in particolar modo la storia della colonna infame più volte cita in questo testo di cui parliamo stasera cioè la strega e il capitano più volte cita testi di Manzoni e di Pietro Verri recupera gli atti e le testimonianze dell'epoca del processo Shasha ripercorre gli eventi di quei mesi con lucidità e indignazione quello che lo fa veramente inorridire è il pregiudizio della gente la stupidità l'ignoranza la cattiva fede delle autorità non solo religiose ma anche laiche i meccanismi della superstizione popolare dalla quale non sono immuni persino i grandi diciamo scienziati del tempo come il protofisico Ludovico Settala di cui si parla anche poi lo citeremo lo leggeremo anche delle citazioni si parla anche nel 31esimo capitolo dei Promessi Sposi si tratta pertanto come abbiamo già spiegato tra i vari libri di Shasha che abbiamo letto insieme di un libro che sta molto bene accanto alla scomparsa di Majorana una denuncia un mistero che lui cerca di svelarci sì è vero per quanto riguarda la scomparsa di Majorana indubbiamente la percentuale di mistero è decisamente superiore rispetto a questa storia invece che ci appare purtroppo tremendamente chiara un monito contro il fanatismo e l'oscurantismo un messaggio ancora tristemente attuale ecco tra l'altro noi possiamo trovare delle analogie fra il testo di cui parliamo stasera e il testo La chimera di Sebastiano Passalli non abbiamo ancora letto insieme questo libro ma io già lo conosco e quindi è un romanzo proprio storico anch'esso con un'impronta appunto decisamente indignata di di sdegno contro diciamo la superstizione e contro questi pregiudizi e queste tremende cacce alle streghe abbiamo letto insieme invece un infinito numero di Sebastiano Passalli non so se vi ricordate allora parliamo un po' adesso dei personaggi di questo di questo romanzo anzitutto dicevamo Caterina Medici non lasciatevi trarre in inganno dal cognome no non si tratta di una nobildonna ecco Caterina nata a Broni in provincia di Pavia in un anno imprecisato della seconda metà del Cinquecento luogo di origine che è documentato perché quando ha in mano gli atti del processo ecco Leonardo Sciascia è figlia di un maestro sa leggere sa scrivere sposa giovanissima appena a 14 anni con un piacentino di cui si è perso il nome resta vedua cioè le muore il marito va in servizio nelle case di Pavia di Casale Monferrato e di Milano a Casale Monferrato tra l'altro era già stata serva presso un tale Capitano Vacallo che sarebbe ecco la strega è lei e Caterina Medici e il capitano è questo Capitano Vacallo questo capitano si era innamorato di questa giovane Caterina e l'aveva messa incinta insomma c'era stato un rapporto già abbastanza ambiguo tra quella che sarà poi la strega Caterina Medici e il capitano Vacallo nel momento in cui lei era a servizio presso di lui poi invece nell'agosto del 1616 Caterina diventa cameriera del senatore milanese Luigi Melzi alta magra prosperosa con gli occhi grandi e labbra sensuali somiglia ad una lupa solo il senatore dice che è brutta è chiaro che Leonardo Sciascia in questa storia parteggia per lei parteggia per una persona che è una donna che agli inizi del 1600 tra il 500 e il 600 di sicuro non poteva conquistare con facilità la sua autonomia ricordate che ne abbiamo parlato addirittura anche a proposito di una poetessa del 500 Veronica Franco quindi come fosse difficile in un certo senso l'emancipazione femminile all'epoca come fossero diffusi pregiudizi nei confronti delle donne soprattutto quando si trattava di donne che avevano un cervello che avevano intelligenza che avevano una cultura che volevano essere indipendenti automaticamente queste donne erano bollate come eccentriche e eccentrica a quel tempo voleva dire essere streghe un altro importante personaggio di questo libro è il ricco senatore milanese Luigi Melzi agiatono attenzione questi ve l'ho già detto sono personaggi storici quando parliamo di Caterina Medici Luigi Melzi Capitano Bacallo parliamo di personaggi storici quindi a differenza dei romanzi storici che sono per metà di storia e di invenzione come nel caso per esempio dei Promessi Sposi qui abbiamo tutti i personaggi storici c'è insomma la pretesa di mettere semplicemente in maniera tra virgolette narrativa un evento storico comunque stavo dicendo quindi che lei non si sarebbe mai immaginata quando nel 1616 arriva a servire in casa di questo senatore che questo avrebbe segnato per esempio il suo destino e che lei sarebbe vissuta solo un anno prima di andare incontro ad una morte tremenda stavo dicendo di questi atteggiamenti ambigui degli uomini sia anche dei suoi padroni sia il capitano Vacallo prima sia Luigi Melzi dopo che magari giudicavano anche negativamente questa donna ma poi sotto sotto si invaghivano di essa i figli in modo particolare i figli di Luigi Melzi istigarono il padre contro di lei e furono loro a presentare con la complicità del capitano Vacallo adesso vedremo a presentarla come una strega convincendolo che lei aveva lanciato contro di lui un maleficio ecco il capitano Vacallo dicevamo che è l'ex padrone di Caterina per caso è in visita dal senatore Melzi è lui che pone l'ultima parola sul caso di stregoneria creatosi attorno a Caterina cioè incomincia ad avere una serie di colloqui con un po' di gente e riesce a convincere tutti della stregoneria di Caterina ebbe dei complici nei figli del senatore e anche nei dottori i dottori i medici dovevano curare il senatore il senatore era parecchio ammalato e i medici non erano riusciti a trovare una cura oppure il motivo della sua malattia e questi approfittarono dunque tutti quanti approfittarono del facile capro espiatorio che sembrava loro posto davanti agli occhi senza neanche tanto sforzo cioè individuare in lei l'origine di tutti i mali così il fatto che fosse una strega lei assolveva questi medici da eventuali responsabilità professionali se lui sta male se il senatore l'anziano senatore sta male è per i malefici e i sortilegi della strega lo stato di cattiva salute del senatore Melzi deve essere dovuto a un'origine magica quindi a lei è il 30 novembre infatti del 1616 quando il capitano Vacallo come folgorato da non si sa quale intuizione ma suggestionato anche da quello che era successo qualche tempo prima quando Caterina era da lui inizia a congetturare che i dolori del senatore possano essere ricondotti alla presenza di Caterina ne parla prima con Geronimo Melzi che è il figlio di Luigi Melzi e poi con il malato in persona le ipotesi di Vacallo confermate da un certo cavagnolo nell'arco di pochissimo tempo diventano accuse come se fosse fondato andare davanti ai giudici a quell'epoca siamo nell'epoca praticamente dei promessi sposi una decina d'anni prima giusto se siamo alla fine del 1616 e all'inizio del 1617 vuol dire che siamo in buona sostanza 11 anni circa prima della storia dei promessi sposi ci sono delle monache ovviamente sappiamo che l'anticlericare Leonardo Sciascia spesso e volentieri nei suoi romanzi ci presenta dei personaggi religiosi decisamente negativi che trovano nel cuscino del malato tre cuori fatti di filo legati con dei capelli di donna trovano dei legnetti e altre cose che potrebbero essere la dimostrazione di questa fattura di questo maleficio sortilegio di Caterina Caterina viene quindi denunciata come strega professa il 26 dicembre del 1616 la donna addirittura aveva confessato e confermato di praticare l'arte della stregoneria attenzione qui dobbiamo ricordare una cosa importante cioè che ci troviamo in un periodo in cui spesso e volentieri le streghe erano diventate capri espiatori di tutte le calamità che potevano esserci all'epoca anche delle problematiche diciamo economiche oppure delle malattie delle persone non era un periodo questo in cui le streghe diventavano non so come adesso un personaggio quasi non so attraente e ben visto come in certi libri oppure in certi film no oppure in certe serie televisive no no allora le streghe erano perseguitate ecco stiamo parlando abbiamo detto della Lombardia Luigi Melzi abbiamo detto che è un senatore milanese era passata lei Caterina dal Pavese poi dal Monferrato per giungere poi nella casa nella famiglia di questo Luigi Melzi a Milano ecco sappiamo che ci sono testimoniati molti processi molte persecuzioni molti roghi per esempio in Lombardia qui per esempio in questa slide si spiega che ci sono stati almeno 80 roghi in Valcamonica almeno 60 roghi a Como ma anche i promessi sposi ci hanno dimostrato che assolutamente la ragione mancava anche a Milano per non dire soprattutto a Milano come dimostrano appunto quei capitoli diciamo dei promessi sposi sulla peste ecco qui vediamo altre illustrazioni sulla caccia alle streghe era qualcosa che coinvolgeva tutti ricordate che anche lo stesso Manzoni aveva spiegato che persino Federico Borromeo condivideva queste credenze superstiziose sugli untori o cose del genere quindi veramente appunto il protofisico Ludovico Settala lo vedremo ancora quindi era sicuramente qualcosa in cui credevano un po' tutti anche gli inquisitori sì perché lei fu sottoposta a un vero e proprio processo di inquisizione tutti quanti partecipavano dell'uguale credenza ma anche le vittime anche la stessa Caterina abbiamo detto infatti che lei alla fine quasi quasi si convince di essere una strega anche se effettivamente non aveva fatto niente però conosceva certe pratiche di stregoneria per questo semplice fatto anche perché sperava confessando di riuscire a generare un po' di compassione nei suoi accusatori sperava questo quindi si confessò ma questo non servì assolutamente a nulla come abbiamo già detto la scopo infatti anche della lettura di oggi non è certamente quella di sapere la storiella perché è come purtroppo una delle tante storie di caccia delle streghe di quel tempo ci sono persino delle targhe commemorative per l'abbiamo già detto quando abbiamo fatto quella diretta sulla stregoneria sulla caccia delle streghe appunto non so in Valcamonica in Inghilterra quindi c'era ben poco da fare quando la gente tutti quanti insieme sia quelle delle classi alte anche magari anche più acculturati sia quelle delle classi più umili concentravano i loro pregiudizi contro una persona non c'era più niente non c'era assolutamente niente da fare Caterina confessa di aver applicato dei malefici al senatore affinché lui si innamorasse di lei non era assolutamente vero e di averli applicati oltretutto con l'aiuto del diavolo la donna viene interrogata spesso da personaggi diversi ma l'esito non cambia la scienza medica nulla poteva nella diagnosi del male di Luigi Melzi non perché all'epoca effettivamente non era arrivata diciamo ai livelli cui arrivò poi nei secoli successivi ma perché a quell'epoca comunque la medicina era considerata meno rispetto alla religione e alla superstizione addirittura Sciascia si sofferma su questo lo vedremo anche leggendo alla fine le citazioni anche con un filo di ironia sottile ma anche amara il processo di Caterina si svolge in tempi rapidi accuse domande chiarimenti confessioni Ludovico le fa paura dicendo che se non confessa verrà bruciata poi Cavagnolo conduce l'interrogatorio nel quale Caterina confessa di aver fatto quei malefici e arriva a sostenere di aver avuto rapporti non con lui non con Luigi Melzi non col senatore ma con il diavolo poi abbiamo un interrogatorio del cancelliere del santo ufficio poi abbiamo un interrogatorio del cancelliere del santo ufficio dove Caterina replica comunque ripete quello che aveva detto si attuò una perquisizione tra le robe di Caterina si trovarono dell'erba una cintura di cuoio dei capelli annodati e questi furono considerati delle prove che testimoniavano che lei era effettivamente una strega era stato chiamato un certo selvatico a testimoniare e questo era un medico che aveva visitato il malato quando Caterina era già stata interrogata addirittura i medici arrivarono a sostenere che se non si uccideva Caterina l'uomo sarebbe morto cioè Luigi Melzi il senatore il 30 dicembre comincia l'interrogatorio nel quale Caterina racconta la sua vita dice che il maleficio che lei aveva fatto era per amore perché veramente voleva essere corrisposta dal senatore si contraddice sui fatti sui tempi sui luoghi dice di aver fatto un maleficio anche alla contessa Langosco per ordine di un cavaliere le contraddizioni per i giudici sono veramente la dimostrazione che insomma è proprio una strega Caterina parla e spiega agli uomini di giustizia quello che probabilmente spera essi vogliono sentire poi per conoscere altri dettagli per verificare bene il tutto come facevano allora la mettono alla tortura la tortura della corda e della tavola lei dice di aver partecipato a un sabba quindi a un rito satanico si ricorda della leggenda del noce di Benevento sotto il quale avviene il sabba dovete sapere infatti che quando abbiamo fatto la diretta sulla stregoneria abbiamo ricordato di queste dicerie popolari e di come Benevento fosse considerata una sorta di capitale ecco se vogliamo della stregoneria italiana la tortura non fa che ampliare la disperazione della donna l'intento del capitano di giustizia è quello di giungere alla verità con l'appoggio della curia ma la tortura non porta a nessuna verità e qui compare la citazione di Pietro Verri la tortura non è un mezzo per arrivare alla verità è un mezzo per confondere la verità non mai per riscoprirla scrive Pietro Verri nelle sue osservazioni sulla tortura vi ricorderete infatti quando abbiamo fatto le dirette su Cesare Beccaria abbiamo spiegato che anche quel libro dei delitti e delle pene era il frutto di continue conversazioni di Cesare Beccaria con i fratelli Verri le idee che aveva Beccaria contemporaneamente le aveva elaborate anche Pietro Verri Caterina fa altri nomi inventa situazioni si autoaccusa di malefici ancora di malanni di morti di cui in realtà non ha nessuna responsabilità perché solo perché lei spera nel perdono e nella clemenza dei suoi aguzzini che invece fanno di lei una creatura da punire e da annientare affinché possa essere da monito e da minaccia nessuno si presenta a difenderla quindi il processo è chiuso il giudice nel fascicolo processuale dice che Caterina ha confessato le streghe si riconoscono per avere la pupilla degli occhi più bassa e più profonda e questo quindi era un'altra dimostrazione scientifica tra virgolette ironicamente potremmo dire della colpa di Caterina la sentenza era quella delle tenaglie e del rogo quindi ulteriori torture prima di essere uccisa in realtà prima del rogo fu strangolata non si sa per darle non si sa se per darle più dolore oppure meno dolore con la morte di Caterina la giustizia aveva trionfialmente concluso il suo corso i medici avevano trovato quello che cercavano per depistare diciamo da qualsiasi loro responsabilità la città di Milano ricordatevi questo processo farsa questo processo irrazionale avvenne a Milano esattamente come i processi degli untori di cui parla Manzoni nella storia della colonna infame la città di Milano ha così cancellato una delle presenze diaboliche che la infestavano quante morti ci sono state in tutta quanta l'Europa per questa caccia alle streghe e poi in quella slide si diceva solo in pochi paesi erano più perseguitati gli uomini nella maggior parte dei paesi europei furono più perseguitate le donne rispetto agli uomini in questa fase così assurda cheppure è paradossalmente lo stesso lasso di tempo o periodo di tempo in cui Galileo Galilei stava elaborando il suo metodo scientifico terminiamo questa diretta con la lettura di alcuni brani tratti dalla strega il capitano di Leonardo Sciascia attenzione queste cose le scrive proprio Sciascia nel libro i promessi sposi capitolo trentunesimo il protofisico Lodovico Settala allora poco menche ottoagenario stato professore di medicina all'università di Pavia poi di filosofia morale a Milano autore di molte opere reputatissime allora chiaro nel senso di famoso per inviti a Cattede tra altre università Ingolstadt Pisa Bologna Padova e per il rifiuto di tutti questi inviti era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tempo ebbene anche lui viene chiamato in questo consesso di medici per cercare di trovare un rimedio ai mali del senatore Luigi Melzi e anche lui non lo trova e anche lui viene coinvolto e non fa nulla per esimersi da questo sonno della ragione che trascina che trascinerà poi Caterina al rogo ancora un altro brano c'è una banalità dell'atroce della crudeltà delle sofferenze c'è sempre stata mai però così invadente e saturante come ai giorni nostri e insomma come è stato già detto è la banalità del male ah attenzione un'altra caratteristica dei libri di Leonardo Sciascia questo è proprio abbiamo detto più un saggio che un romanzo e quindi lui ha tutto il diritto a un certo punto in vari punti del testo di riferirsi al presente di riferirsi all'attualità come dire ascoltate non potete star tranquilli perché una volta si pensava in questo modo e adesso invece siamo tutti persone ragionevoli persone moderne e quindi non ci comporteremmo mai in questo modo così istintivo no lui spiega ogni tanto con queste frasi come quella che vi ho appena detto che il male c'era allora ed è atroce e crudele allora allora era atroce e crudele così come lo ha ancora oggi e non c'è stato nessuno passo diciamo così dell'umanità ecco è sempre molto amareggiato sdegnato Leonardo Sciascia in tutti i suoi scritti ancora scrive nel libro poiché nulla di sé e del mondo sa la generalità degli uomini se la letteratura non glielo apprende come dire avrebbero potuto comunque gli uomini di quel tempo aprire gli occhi ma preferivano stare nella loro ignoranza terrificante è sempre stata l'amministrazione della giustizia e dovunque specialmente quando fedi credenze superstizioni ragion di stato o ragion di fazione la dominano o vi si insinuano se dominano la giustizia anche in questo caso ci viene in mente Alessandro Manzoni che abbiamo detto è una fonte di Sciascia nel momento in cui dicevamo le sale di tribunali sono tutte piene comunque di questi pregiudizi di queste ideologie che si sovrappongono alla ricerca della giustizia beh allora l'amministrazione poiché in fatto di stregoneria l'inquisitore e l'inquisito il carnefice e la vittima partecipavano dell'uguale credenza ecco qui è il brano quando si parla e si descrive l'autoconfessione di Caterina Medici e allora si dice guardate che comunque l'inquisitore e l'inquisito quindi nel caso qui l'inquisito e Caterina Medici ma anche c'erano proprio gli inquisitori allora comunque condividevano lo stesso orizzonte culturale credevano le stesse cose credevano alle streghe anche lei dimostra di credere alle streghe ma streghe e stregoni dal vedere tante loro pratiche non sortire alcun effetto qualche dubbio dovevano pure averlo mentre ovviamente non ne avevano coloro che li temevano o che di pratiche stregonesche si credevano affetti e ancora di più i padri inquisitori i giudici quindi comunque fra tutte queste persone quelle più irrazionali di tutti sono proprio i giudici sono proprio quelli che dovrebbero dimostrare ragionevolezza nei loro pensieri nelle loro sentenze adesso un brano in cui si descrive il senatore Luigi Melzi aveva passati 60 anni il senatore e c'era il rischio che anche senza gli stregoneschi incantesimi restasse incantato di più umano e senile incantamento in simili situazioni sempre i figli hanno visto pericolante oltre che il senno del padre e conseguentemente a questo anche la roba i figli non sono preoccupati del padre per la sua salute ma sono preoccupati perché dicono insomma nostro padre diciamo così sta andando verso una certa demenza senile e noi rischiamo di perdere la roba il patrimonio la ricchezza e sempre i figli non hanno trovato di meglio che far scomparire dall'orizzonte familiare con le buone o con le cattive la donna in cui l'anziano genitore trova le ultime reliquie della gioia di vivere insomma non appena i figli videro in quel 1616 arrivare in casa questa donna ancora molto piacente e formosa immediatamente pensarono come cacciarla via come allontanarla dal padre perché avrebbe potuto solamente recare danno ancora un altro brano e quell'antico favoleggiare si configurò fu configurato come pericolo per l'ovvia ed eterna ragione che ogni tirannia ha bisogno di crearsene uno di pericolo di indicarlo di accusarlo di tutti quegli effetti che invece essa stessa produce di ingiustizia di miseria di infelicità tra gli assoggettanti ecco questa invece è una frase del libro che ci mostra come fosse stato comodo per tutti quanti trovare un capro espiatorio cioè convincersi autoconvincersi o convincere gli altri che la ragione di tutti quanti i mali la causa di tutti quanti i mali fosse quella povera donna quando invece la causa di tutti i mali era esattamente nella loro ignoranza ancora noterete in questo brano che stiamo per leggere veramente lo sdegno nei confronti della giustizia tra l'altro anche qui Leonardo Sciascia ricordiamolo aveva un pessimo parere ecco sulla giustizia sullo Stato spesso era proprio critico nei confronti dello Stato e nei confronti della giustizia ai suoi tempi capite che questi per lui sono solo ed esclusivamente storie del passato che però si ripropongono con poche varianti anche nel presente secondo Sciascia per la verità che vogliono i giudici a farla apparire verosimile terribile parola per intendere l'importanza della quale sono necessarie alcune osservazioni generali che purtroppo non potranno essere brevissime sulla pratica di quei tempi nei giudizi criminali dice Manzoni nella storia della colonna infame alla quale mai ci stancheremo di rimandare il lettore e per tante ragioni che sono poi quelle per cui scriviamo e per come scriviamo e ora anche per apprendervi il senso che aveva allora questa terribile parola la parola di cui sta parlando Leonardo Sciascia è la parola verità e cita appunto la storia della colonna infame per dimostrare come allora si distorcesse la verità ma come stavo spiegando prima questo avveniva nel 600 ma per Sciascia avveniva anche al suo tempo dovete sapere prima di leggere proprio le ultime parole del romanzo che si utilizza un termine piuttosto raro queste ultime parole adesso andiamo a spiegare che cosa significa questo termine la parola baltresca indica l'altana una loggia aperta sul tetto di una costruzione in generale potrebbe indicare una specie di palco ed è quindi esattamente lo scenario pubblico utilizzato per far vedere a tutti quanti la morte di Caterina cioè il rogo leggiamo pertanto adesso le ultime parole di questo romanzo con le quali anche termina la nostra diretta la baltresca era una specie di castelletto a che tutti non perdessero nulla dell'orrendo spettacolo e così assicurò il boia giustizia fu fatta ecco quindi che agli occhi di tutti la giustizia è fatta tutti se ne tornano a casa col cuore in pace perché hanno visto bruciare sul rogo lei che era la causa di tutti quanti i mali e così loro si illudono di avere la coscienza pulita mentre invece in un certo senso si sono ripuliti solamente una maschera che nasconde la vergogna che è in loro non in quella donna ma è che è in loro stessi cioè negli uomini che l'hanno accusata e giudicata per terminare la serata vorrei anzitutto salutare Giuseppollina che ci ha addirittura seguito prima ancora che iniziassero la diretta su youtube Vagno Marcos Dos Santos che ci ha seguito dal Brasile e Katia Maci che ha scritto una cosa molto molto carina insomma queste dirette dice mi stanno accompagnando in un percorso di crescita culturale e personale mi fa molto piacere questo sono d'accordo anche con lei sul taglio giornalistico di tanti testi di Leonardo Sciascia anche quando scrive di narrativa lo si intravede questo taglio giornalistico che si intravede che si intravede